Entra nel vivo il contratto istituzionale di sviluppo di Capitanata che punta a valorizzare le eccellenze culturali, naturalistiche, artigianali e produttive della provincia di Foggia, per mettere meglio a frutto le potenzialità del territorio e le sue capacità attrattive. 13 legare a cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dato il via, tra quelle che riguardano la fase di progettazione c'è Stupor Mundi di Lucera. Si tratta di un progetto che intende valorizzare il palazzium di Federico II che sorge all'interno della cinta muraria della fortezza Svevo Angioina, attraverso interventi di restauro e risanamento conservativo in modo tale da rendere l'edificio fruibile. Il sindaco di Lucera, Antonio Tutolo, ha annunciato inoltre che nelle prossime settimane sarà pubblicato anche il bando di gara per il restauro e la fruizione della cinta muraria del castello di Lucera, che necessita di urgenti lavori di recupero. Si tratta di progetti molto attesi per ridare nuova vita ad un monumento così importante e prezioso per il territorio che versava da lungo tempo in condizioni di decadenza.